Gioate, mi devo fare 3, 2, 8, 5 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 E io, vada No, io fatti lì Mi faccio di messaggio La faccio lì, che devi messaggio E perciò io fatti lì No, ma guarda, state toccate Te ne guarda, mi vedete a me Andate a me, andate a me Andate a me, andate a me Guarda che siamo prodotti Quattro, 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 quattro Quattro, no Oh, ce ne hai fatto Del proprio sistema Quattro avversari lì Faccio le brindirette l'avversario Oh, uè Quando si bella Sette una volta Te la tratta come l'anno E fatti così Non me ne frega io E quindi otto Secondo te Secondo te Esistono 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 Quando mi avete E' un'altra volta 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 Ma venite a sfidare tutto a me E' sfidare E' un'altra volta 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 8 vedevo l'uomo 8 vedevo l'uomo 8 vedevo l'uomo Voi ce lo lascio tanto Prendati cazzo Prendati cazzo Prendati cazzo Tu arrivi l'uomo che non esce e chiudi No, voglio che cazzo che esce Vedi cazzo che cazzo C'è di 4 vede Voglio che cazzo che esce Tutti gli uomini Che fanno? Che fanno? Che fanno? L'uomo Quelle donne che fanno? Non dici il ciumolo Che abbandonano le donne Zitta 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 Apprezzo Tu metti tutto Rite Po si guarda Ha scostato Arcandi E quindi Ma che vado? Guarda La testa La testa Diversa Che fanno? ma io che devo fare? io la posso fatta verso e con la seconda io l'ho fatta verso e con la seconda c'è la frega di qualsiasi buono senza aver fatto niente e 7 e 3 facciamo le trappe ma io sto ancora ma io sto ancora e le donne con un sacco quanto vedi i car anche un sacco perché la squadra non c'è niente a me io ho fatto un pochino ti mangiate i sarta ehi guardate quel tuo orologio e qui l'avversario dove sta così chi fa che sta la mano? non c'è un sacco di portafoglia però non c'è un sacco di portafoglia non c'è un sacco di portafoglia ti mangiare? a prima di ventuno questo è la seconda ma tu mi sei conto di la coccia che tu? bonjour non mi devi non mi devi fare e la sera che c'è tanto soldi io c'è tanto soldi la sera quella è la pupilla mamma mia altri angelo ricresciano i soldi sempre ricresciano tante tre do di polla i pollini Qua, le donne mi amano, è morta pure questa, olè, ora è, l'accavato in Gesù. E vedi come ce l'ho, come ti faccio vedere, le donne mi amano. Guarda, 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 guarda che, guarda che spiro che l'ho, guarda, c'è un mondo messo con me, ma tu non hai potuto neppure, ma guarda che mi dice il mo' però, un cavallo non potuto neppure perché, oppure, e tu, e tu, e tu, e tu. Mi ricordo tutto, guarda, guarda tutto, sono 4 e 3, 6, e controllo, controllo, sono 6. ma io ho già venuto vinti te vinti te e chi fa gatto? tu fai gatto? tu fai gatto? tu fai gatto? ma che mi sono fatto a lui? vinti te vinti te e come zarate questo posto vuoi stare ma se stai mai un euro nico dopo tocca a te nico quella sera non hai mangiato non hai mangiato nico fa ancora dei 5 punti e non dici che c'è ora? tu fai gatto? c'è gatto c'è gatto a te che c'è gatto 3 punti e le donne? che fai? che fai gatto? 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 domani è una arena domani una arena domani sono 5 crisantemi 5 crisantemi 5 crisantemi e persi niente si ciao Daniele fuori e te lo stai 10 punti sono 28 e 3 e 31 e 20 sono ancora un set buongiorno esatto si sta giochando una partita diciamo in maniera abbastanza tranquilla come è logico per far vedere questo chiamate le mole si sa? non ce li chiamano io sono andato i pesi ho lasciato i pesi ho lasciato i pesi mi chiamano vi ho lasciato i pesi mi chiamano un punto da avocado e rende me buongiorno è morto la bella